Don Mazzi dai numeri Don Antonio buongiorno Ciao ciao, oggi i miei tachi arrivano fino in paradiso, penso a te vedrai cosa ti racconto mi hanno detto che ieri la mia frase era un po' difficile, ve la spiegherò con la calma, invece la frase di oggi non può, non potete non capirla e soprattutto la devono capire i cosiddetti miscredenti, sapete cos'è miscredente? andate a guardare sul vocabolario allora eccola io e la strada più breve tra lo zero e l'infinito dove ho trovato questa frase non lo so però è straordinaria, la strada più breve tra lo zero e l'infinito, ciao ciao ciao